Buongiorno, sono il geometro dell'Auro Antonio, esercito come libero professionista a Cremona. Volevo fare questo video per ringraziare Cefti per il videocorso realizzato sulla legge 10. Volevo dire che è stato veramente importante anche il corso base, adesso parteciperò anche a quello avanzato. La parte più interessante alla quale ho trovato sempre difficoltà nelle legge 10 è la parte impiantistica e soprattutto nelle pompe di calore, che oggi mi è molto più facile andare a compilare la legge 10. Ma non solo, mi è più facile andare a reperire i dati su pompe di calore alla quale non ci sono documenti, oppure su pompe di calore dove la scheda tecnica non dà i propri dati del COOP e dell'AR. Grazie al videocorso dell'ingegnere, adesso veramente mi è facile andare a reperire questi dati. Sto dando molto supporto anche ai miei colleghi sulla realizzazione delle legge 10, sto ricevendo parecchie chiamate e mi rendo conto che questo corso mi ha dato quella marcia in più per proseguire il mio percorso nella termotecnica. Grazie mille, parteciperò a quell'avanzato e poi farò un altro video per ringraziarvi, se sarò soddisfatto. Grazie, buona giornata.